Usavano Facebook per individuare sacerdoti omosessuali e poi ricattarli. E' stata questa, secondo gli investigatori, la metodologia di Diego Caggiano, 35 anni, di torninparte, e Giuseppe Trementino, di 30, di Bagnoli del Trigno, arrestati all'alba su disposizione della magistratura di Lago Negro, per estorsione aggravata e continuata a due sacerdoti. I due chiedevano amicizia a quelli che avevano un profilo sul social network e una volta carpita la loro fiducia, riuscivano ad ottenere confidenze intime usate successivamente per il ricatto. Inizialmente le richieste di denaro erano basse, poi aumentavano sempre di più fino ad arrivare a migliaia di euro. A denunciare l'accaduto è stato un prete di Isernia, proprio quello che aveva ricevuto la telefonata da Caggiano e Trementino dalla località di Maratea. Secondo quanto accertato, ci sarebbe stato solo un sacerdote che avrebbe deciso di pagare i due ricattatori utilizzando un vagliapostale. Per gli altri 11 prelati ricattati, dell'età compresa tra i 40 e i 50 anni, sono in corso accertamenti. Caggiano e Trementino sono stati arrestati nell'abitazione di quest'ultimo a Bagnoli del Trigno, dove vivono insieme. Ora sono rinchiusi nel carcere di Ponte San Leonardo a Isernia. Il valore dell'estorsione non è stato ancora accertato.